Siamo qui per una riunione di Forza Italia e colgo questa occasione per salutare tutti i simpatizzanti di centrodestra di Forza Italia e colgo anche l'occasione per invitarvi a riavvicinarvi a Forza Italia, al centrodestra proprio per il nostro paese e per tutti noi. Io ho accettato momentaneamente questo incarico di coordinatrice perché purtroppo a Pianciano non c'era più nessuno, però il mio incarico lo metto a disposizione di chiunque che anche nei prossimi giorni si voglia rendere disponibile e quindi contattarmi in maniera di poter costruire qualcosa tutti insieme.